Ciao a tutti ragazzi, avevo già fatto una live su Twitch e ovviamente vi invito a seguire le live su Twitch e non solo i video su YouTube perché ovviamente sono due cose completamente differenti e sono molto più interattive avevo parlato di De Jong alla Juventus, ovviamente stiamo parlando di Frankie De Jong, il centrocampista del Barcellona che sembra essere praticamente il futuro per quanto riguarda il ruolo, proprio il regista inteso come giocatore in grado di far muovere interamente una squadra soltanto con le giocate e soltanto con i passaggi è il modo di girare la palla. Al Barcellona tra l'altro De Jong fa la mezzala, quindi vediamo un giocatore che è abbastanza polivalente che può occupare più posizioni di campo, più ruoli al centrocampo perché ovviamente il fulcro in mezzo al campo del Barcellona è e rimane Sergi Busquets che svolge un ruolo un po' ibrido viste anche le sue caratteristiche fisiche quindi De Jong è un regista che può giocare prevalentemente in tutte le zone del centrocampo quindi un centrocampo a tre come quello del Barcellona o come quello della Juventus potrebbe veramente andare a occupare ogni singola casellina, ogni singolo tassello, ogni singola posizione. De Jong, giocatore per la Juventus per la stagione 2020-2021 giocatore di calciomercato, idolo di calciomercato, acquisto decisivo della Juventus per la prossima campagna acquisti questa è la voce che sta girando. Quello che ci tengo a dire, quello che ci tengo a sottolineare come ho già detto anche all'interno della live è che mi sembra veramente il classico nome da fine maggio-inizio giugno in cui si spara alto per poi ridimensionarsi un po' le idee per poi iniziare a calare e passare da De Jong a magari Giorginio che mi sembra tra tutti il nome un po' più verosimile il giocatore un po' più probabile da vedere in Maglia Juve l'anno prossimo ma andiamo con calma. C'è Pjanic, c'è Pjanic che è probabilmente un giocatore in uscita da Juventus e probabilmente sarà il prossimo acquisto del Barcellona per quanto riguarda il centro campo e c'è la Juventus che in cambio di Pjanic al Barcellona chiede a Artur Artur sembra non volersi muovere, ovviamente tutte queste cose sono illazioni sono ricostruzioni che noi possiamo fare soltanto avvalendoci di quello che leggiamo sui giornali o sui social media la situazione però è questa. Pjanic che interessa al Barcellona Pjanic che vuole andare al Barcellona, Pjanic che probabilmente non vuole più rimanere alla Juventus la Juventus che chiede un determinato giocatore al Barcellona tale Artur che però non ne vuole sapere di lasciare la Spagna e il club blaugrana e vuole rimanere là e non vuole venire alla Juve. Ok, no, stacchiamo Artur chi c'è? C'è Rakitic, c'è Vidal, nomi che alla Juve potrebbero anche eventualmente interessare ma ovviamente al di fuori di questo scambio, al di fuori di questa trattativa perché se no la Juventus preferisce farsi pagare cash poi ci sono Todiboi e Semedo che sono un altro tipo di discorso visto che stiamo parlando di altre posizioni di campo, altre caratteristiche, altri giocatori e allora per forza di cose se togliamo tutti questi giocatori e andiamo a focalizzarci soltanto sui centrocampisti del Barcellona è tolto Sergi Busquets perché ovviamente non può essere un nome interessante per quanto riguarda l'eventus e poi credo che arrivato a questo punto chiuderà la carriera là dove l'ha iniziata ecco che per forza di cose viene fuori il nome di Frenkie de Jong Frenkie de Jong che l'anno scorso giocava comunque in una squadra di minor livello nonostante ci abbia eliminato la Champions League come l'Ajax dalla quale abbiamo prelevato De Ligt De Ligt che abbiamo preso noi, De Jong che ha preso il Barcellona L'Ajax si è preso 75 milioni per De Ligt da parte nostra 75 milioni più 11 di bonus per De Jong un'altra cosa che mi spinge a pensare che De Jong non possa essere assolutamente un colpo plausibile per questo Juventus e soprattutto nella trattativa Pianici è proprio questo il cartello di Pianici credo che possa essere valutato tra i 40 e i 45 milioni di euro in caso di cash 50, 55 è proprio esagerare in caso di scambio in cui anche l'altra squadra potrebbe ipervalutare il cartello del giocatore che va a cedere alla Juventus quindi io non credo veramente che De Jong possa rientrare all'interno di questa trattativa perché Juventus dovrebbe dare qualcosa come Pianici e almeno 50 milioni di euro perché sennò il Barcellona perché mai perché diavolo dovrebbe far partire De Jong per sostituirlo con Pianici siamo tutti d'accordo, è vero che il futuro è tutta la parte di De Jong e probabilmente anche le caratteristiche tecniche rispetto a Pianici perché in caso contrario vuol dire che dobbiamo sederci un attimino fare un respiro e parlare con molta più calma non credo che De Jong possa essere un colpo plausibile non penso che De Jong possa essere un obiettivo di mercato e mi ricorda tanto il tormentone Guardiola dello scorso anno quando iniziavano ad andare male le cose con Allegri ecco che cosa succede, bam, ci piazziamo il nome dell'allenatore top e diciamo che è in orbita Juve diciamo che potrebbe essere il futuro della Juventus così iniziamo a pensare in ottica stagione successiva iniziamo a metterci il cuore in pace per questa stessa cosa sta avvenendo in questo momento stiamo andando male a centrocampo stiamo andando male, tre mesi che non giochiamo e chissà per quanto altro tempo ancora non giocheremo però la Juventus va male a centrocampo bam, gli sbatto in faccia il nome top, il nome più grande in assoluto più di Pogba per quanto mi riguarda più di Milinkovic, Savic, più di qualsiasi altro nome sulla faccia della terra però mi viene anche da dire che non credo che De Jong sia interessato a fare questa cosa perché in questo momento gioca in un club che per lui è sempre stato il massimo e infatti circola questa foto di De Jong da ragazzino con la sua fidanzata al Camp Nou a vedere Barcellona non so che cosa e la foto di De Jong con la sua ragazza con la maglia del Barça in mano appena arrivato la scorsa estate quindi non credo che dopo soltanto una stagione in cui Barcellona ha veramente pagato tantissimo e giustamente un prospetto cristallino e che sarà in assoluto il futuro del calcio mondiale possa lasciare la Catalogna una squadra come il Barça a meno che il Barça non abbia incredibili problemi di soldi ma si parla addirittura di 90 milioni pronti per Lautaro Martinez quindi mi sembra abbastanza infondato iniziare a parlare di problemi del Barcellona costretto a vendere ma la vedo veramente l'unica strada l'unica possibilità per iniziare eventualmente a ragionare su De Jong in orbita Juventus perché potrebbe anche benissimo essere che il Barcellona sia costretto a cedere De Jong o De Jong vuole andare via da Barcellona ma che la Juventus non sia la destinazione principale o la favorita facciamo anche il ragionamento inverso abbiamo parlato di Guardiola parliamo anche di Cristiano Ronaldo perché due stagioni fa lo stesso ragionamento lo potevamo fare con Ronaldo figuriamoci se Cristiano Ronaldo vuole venire l'arrivo figuriamoci se l'arrivo vuole prendere Cristiano Ronaldo sarà il nome classico dal quale poi andiamo a scalare quindi dopo la trattativa Ronaldo davvero niente è impossibile ma se ci troviamo in una situazione in cui dobbiamo pensare che la Juventus farà verosimilmente un mercato un po' più ridotto rispetto al solito un po' più contenuto negli acquisti e nei nomi parole di Paratici parole musica di Paratici che ragionando sul tema Covid dice è rispetto agli altri anni abbiamo un po' più di difficoltà quindi il mercato ce lo dovremmo inventare quindi mi aspetto nomi di minor caratura quindi Giorginio verosimilmente Tonali o giocatori di questa dimensione qua Pellegrini della Roma che potrebbe essere riscattato con la clausola di recessione per una trentina di milioni di euro ma credo che più in là si faccia fatica ad andare poi io mi siedo qua insieme a voi e voglio aspettare voglio sapere assolutamente l'idea che avete anche voi per quanto mi riguarda De Jong veramente sarebbe il non plus ultra il giocatore più fantastico da andare a prendere per sistemare unicamente con un acquisto il centrocampo perché con De Jong davanti alla difesa potreste benissimo giocartela con Ramsey Bentancur titolari chi si è visto si è visto c'è di Pjanic c'è di eventualmente che dire perché è arrivato alla fine del suo ciclo di vita la Juventus potresti paradossalmente tenere il rosa Rabiot e Matuidi Matuidi molto più di Rabiot a onore del vero per quanto mi riguarda poi voglio la vostra opinione qui sotto nei commenti e comprare poi un altro centrocampista che vada a integrarsi vada a riempire la casella lasciata libera dal tedesco in uscita sarebbe fantastico ci credo poco ci credo ancora meno perché il nome viene fuori a fine maggio inizio giugno in un anno in cui il calciomercato sarà particolare e non carico di emozioni e secondo me al fine del calciomercato avremo un po' l'amaro in bocca e saremo pronti ancora una volta a dire beh abbiamo sbagliato il mercato e qui e là ma mai come quest'anno probabilmente sarà comprensibile qualche passo falso in chiave mercato anche perché non sarà per niente facile poi tutti gli anni la Juve un colpo da 100 milioni almeno ultimamente lo sta piazzando dai Wayne da Ronaldo da The Elite 100 milioni o giù di lì sarei sorpreso vederlo quest'anno sarebbe bellissimo vedere The Young io volevo riproporre questi concetti perché volevo ricaricarvi un pezzo di live di Twitch come sto facendo ultimamente ma purtroppo l'avevo registrata in ufficio con lo smartphone e non era venuta particolarmente bene quindi proveremo nella giornata di venerdì a fare un altro tipo di live con lo smartphone e se andrà bene bene procederò per quella direzione se no dovrò cercare di inventarmi qualcosa di diverso nelle giornate in cui sono un ufficio ma non potevo assolutamente non parlare del fatto che il nome di The Young è stato accostato alla Juventus ma ancora una volta non voglio veramente illudervi come vi ho già detto per Pogba credo che sia una trattativa molto molto complicata la vostra opinione qui sotto nei commenti ci vediamo su Instagram su Twitch qualsiasi piattaforma trovate ogni link qui sotto nei commenti un mi piace a questo video se vi è piaciuto un non mi piace se non vi è piaciuto perché magari siete davvero convinti che The Young sarà un prossimo giocatore della Juventus